Ciao a tutti, sono Elisabetta, ho 36 anni, vengo da Roma, vivo a Roma, il mio centro estetico si trova a Roma, in via Cassia. Il centro estetico io l'ho rilevato nel 2012, all'inizio il mio era tutto un altro lavoro. Il dubbio più grande prima di iscrivermi al Master era proprio non partecipare al Master, quindi partecipare al Beutop ma non al Master. I più grandi problemi che avevo prima di partecipare al Master erano non avere una cordegna e l'organizzazione del centro generico, perché noi comunque eravamo un centro estetico generico e non specializzato. L'obiettivo che mi sono posta dopo il Master è stata la specializzazione, quindi abbiamo iniziato da subito a specializzarci in trattamenti corpo. Avere una cordegna è l'aspetto che ho intrapreso da subito dopo il Master, quindi la prima cosa è stata assumere una cordegna che mi aiutasse. L'aspetto più importante e più bello che io ho visto nel Master sono stati i risultati di tutte le altre colleghe che mi hanno ispirato ad iscrivermi. Da quando frequentiamo il Master io e il mio staff sicuramente le cose che sono cambiate sono la gestione del centro e la programmazione dei veri e propri programmi strutturati per il corpo. Il Master in tre parole è Marco alla seconda, perché parliamo di Marco e Marco, Claudio e Cristina e ovviamente tutto lo staff che c'è intorno a loro. Per la gestione delle ore di studio ci siamo prefissati due ore a settimana per poter studiare e ripassare insieme. Poi diciamo che abbiamo un giorno e mezzo a settimana a disposizione tutte quante dello staff che possiamo sfruttare al meglio per poter studiare a casa e confrontarci al lavoro. La cosa che trovo assolutamente più utile è averli registrati e poterli rivedere più e più volte ogni volta che si ha un rubio. Nel gruppo Facebook leggo tutti i post, li seguo molto e tra l'altro sono d'aiuto perché abbiamo tutti quanti gli stessi problemi. Come si dice a Roma ogni tanto leggendo alcuni post rosico perché ci sono dei risultati top che io ancora non ho raggiunto e spero di raggiungere presto. Tre caratteristiche che differenziano il Master da tutti gli altri corsi di formazione, dagli altri corsi di formazione che io ho frequentato perché sì ne ho frequentati diversi, sono sicuramente Marco, Claudio e tutto lo staff e i tutor. Soprattutto avere un tutor a disposizione che ti segua, i docenti del Master sono il top e sì io consiglierei il Master a milioni di colleghi. Consiglierei prima il Blue Top, poi consiglierei il Master, assolutamente consiglierei tutto il gruppo. Trazze, vi